Qualche tempo fa vi avevo parlato di Chartmill, un tool che ritengo molto interessante per fare stock screening ma anche per andare a fare analisi tecnica e capire con alcuni indicatori di analisi fondamentale quali possano essere le aziende che possono fare al caso nostro. Oggi vado a fare uno tutorial all in direi usando una parafrasi delle dinamiche dell'investimento. Oltre a ciò alcune informazioni più sull'azienda e anche una piccola sorpresa ma tutto questo subito dopo la sigla. Ciao a tutti io sono Pasquale e questo è Io risparmio, il canale del tuo investitore e risparmiatore della porta accanto. Oggi parliamo di Chartmill a fondo. Magari potresti trovarlo molto interessante così come ho fatto io. Se vuoi iscriverti ti lascio il link gratuito qui sotto che è affiliato che però non fa pagare niente a te ma che aiuta a me a fare crescere il canale. Per sapere qualche notizia un po' più precisa sull'azienda io mi sono rivolto direttamente a loro. Infatti ho scritto al team di Chartmill che mi ha disposto praticamente in tempi da record e per questo non posso che ringraziare Christophe e Alvin. Chartmill è stata fondata nel 2008 in Belgio da diversi investitori e commercianti diciamo così del mercato amatoriale. Poiché lo screening manuale per una corretta configurazione richiedeva molto tempo ed i fondatori non trovavano screener esistenti in quel momento che li soddisfacessero se ne hanno pensato ma perché non ce ne creiamo uno tutto nostro e così hanno fatto. Chartmill è diventato piuttosto popolare in breve tempo e dal momento ha un database che include quasi 23.000 titoli di tutto il mondo. Nel frattempo Chartmill è diventato uno strumento di analisi finanziaria completo con tre persone che ci lavorano a tempo pieno e più poi gli altri collaboratori. I clienti principali sono sia retail come posso essere io o magari molti di voi ma anche aziende principalmente dei brokers che vogliono offrire servizi aggiuntivi ai propri clienti come ad esempio una reportistica relativa ai propri investimenti. Da precisare che non tutti i mercati e non tutti i titoli sono disponibili e col tempo sono stati già messi in pipeline molte cose praticamente tanta carne al fuoco soprattutto per la parte che più interessa a me quella di analisi fondamentali in modo da permettere nel tempo backtest sia tecnici qualitativi che quantitativi o fondamentali. Per esempio ad oggi alcuni etf o titoli italiani meno conosciuti o comunque a bassissima capitalizzazione non sono presenti perché Milano viene coperto tramite CBOE. CBOE non ha tutti gli strumenti quotati alla borsa di Milano ma solo un loro sotto insieme. La buona notizia però è che Milano come molti di voi sanno è entrata di recente a fare parte di Euronext quindi in futuro tutti i dati saranno presenti perché coprono e da questo punto di vista tutti i mercati che sono di proprietà o gestiti da Euronext. Tuttavia non sono ancora sicuro di quando questo accesso sarà disponibile però comunque è un qualcosa che arriverà secondo me non tardi. Ma ciancio alle bande o bando alle ciance e andiamo subito a video e vi faccio vedere un po' questo tutorial all in. A proposito la sorpresa che vi volevo dire è che andrò a intervistare Christophe di Chart1000 per cui se avete domande da presentare alla piattaforma, al loro management per favore lasciatemi nella sezione commenti qui sotto così andremo a chiedere direttamente a loro delle cose mirate, magari secondo i vostri interessi e le vostre necessità. Bene, ora basta parlare, andiamo al PC. Ed eccoci qui sulla pagina principale di Chart1000. Questo è quello che si vede appena si entra nella piattaforma, nella home. Abbiamo sulla sinistra, totale sinistra, il menu che andiamo a vedere voce per voce a breve. Tramite queste tre lineette si può nascondere o far mostrare il menu. Poi abbiamo qui uno stock market overview e in particolare si prende come riferimento sempre lo Sanare Pro 500, l'ETF e lo SPY. E qui cliccando andiamo a vedere anche un po' tutti i maggiori ETF in charts. E appena adesso, fra un po' andiamo a vedere anche questo. Poi andiamo a vedere le market statistics volume, per cui tutto quello che sono le statistiche del mercato in termini di volume sia per quanto riguarda il 5 giorni che i 20 giorni. Poi abbiamo anche un piccolo spettro di come sono andate ad essere le performance dei vari settori sul mercato americano in termini percentuali. Questo ovviamente è la performance del giorno, l'ultimo giorno in questo caso io registro di domenica ma questo è di venerdì. E anche cliccando qui andiamo a vedere tutti i settori e qui tutti gli screeners. Poi se ci sono state delle aziende che sono state valutate sulla piattaforma di recente, in automatico Chartmill ce le mette qui sotto per farci sapere nell'ultima settimana, nell'ultimo giorno come sono andati a comportarsi sul mercato. E anche qui cliccando si può vedere in chart tutte queste aziende in un'unica pagina. Qui in alto abbiamo la campanella degli avvisi. Tutti quegli avvisi che avete settato possono essere diciamo mostrati. In questo caso io ho fatto delle prove proprio per mostrarvi cliccando cosa succedeva. Per esempio qui vengono mostrati i vari earnings delle aziende che ho messo in watch list o che ho guardato di recente. Oppure tutte quelle che sono i technical setup per cui tutto quello che potrebbe essere un ingresso o un avviso per quanto riguarda dell'analisi tecnica. Qui in alto la seconda iconcina ci fa scegliere semplicemente il tipo di tema della piattaforma. Se la vogliamo nera, in bianco o indigo. Io sinceramente la preferisco in bianca. Qui abbiamo tutto quello che è i crediti a disposizione. Chartmeer lavora su crediti. Vi dico subito che è gratuito ma se fate un utilizzo molto molto importante e possente e vi vengono dati 6.000 crediti al mese gratuiti dalla piattaforma. Se superate questo limite non avete più l'accesso a tutti i dati che per i 6.000 crediti sono sempre disponibili. Ma dovete o comprarne in più oppure andare a fare un abbonamento. Qui invece andando su My Account si possono andare a vedere tutto quello che sono le vostre notifiche. Tutte quelle che sono i settaggi del chart per cui tutto quello che sono i settaggi dei vari grafici. I settings per cui tutti i settaggi per quanto riguarda gli screener. Ma adesso che andiamo a vedere voce per voce questi dati capirete di cosa parlo. Cosa si vuole vedere quando si apre una chart o quando si apre lo screener? In questo caso FA sta per Fundamental Analysis. Quando io apro uno screener voglio vedere i dati fondamentali dell'azienda per cui dividend yield, PR ratio e così via. Qui ci sono le mie watch list che ne ho creata solo una poi vi faccio vedere come se ne crea un'altra. Qua si può cancellare e ci ho inserito semplicemente un'azienda per fare vedere insomma di cosa si parla. Il position size setting sono, il position size setting è quello che avete voi a disposizione perché nel momento in cui andate a cliccare su un grafico potete anche fare delle stime di quello che andreste a spendere in base al rischio che volete utilizzare, alla commissione che pagate col vostro broker, alle eventuali tasse che poteste pagare, qual è il vostro capitale liquido. Qui ci sono i credit info, ogni mese come vi dicevo vengono accreditati come regalo da parte di chart 1600 crediti. Oppure se come me avete il programma unlimited non avete limiti di crediti e non dovete preoccuparvi. Qui possiamo anche vedere il login e il cambiamento di password. Partiamo subito a vedere le varie voci per cui andiamo di nuovo sulla home e dal menu tools a tendina compaiono stock chart, stock screener, analyzer, sector, inside trading, up and down grades. Andiamo a vederli tutti. Nel canto su stock chart andiamo semplicemente a settare tutto quello che sono i vari parametri che vogliamo andare a vedere per una determinata azienda. Tutto quello che sono le cose che ci interessano da vedere sul nostro grafico. In questo caso in automatico ci sono la simple mover average a 200 periodi, la simple mover average a 50, supporti e resistenze. Possiamo vedere la chart principale, il grafico principale e il grafico secondario in maniera tale che possiamo avere ad esempio in un grafico il giornaliero come vediamo qui e nell'altro il settimanale se siamo dei trader possiamo avere i due dati, i due grafici uno di fianco all'altro per andare appunto a capire più o meno come comportarci. Stock screener, questo è veramente uno screener che mi piace tantissimo e potentissimo, tra l'altro poi potete caricarvene e crearvene di vostri e salvarli qui e adesso vi faccio vedere. In pratica qui andiamo a settare tutto quello che è la nostra metodologia di ricerca delle azioni per andare a scegliere quelle che a noi interessano. Ad esempio possiamo andare a scegliere tutti gli exchange lasciando all o magari andare per tipologia di exchange. Vi preavviso che per quanto riguarda le azioni europee o le azioni che non sono americane non tutti i dati fondamentali sono disponibili perché ancora sono in corso degli accordi da parte di Chartmill con le varie provider per avere dati aggiornati. Tutto quello che è Aeronext a parte l'Italia perché ancora non è entrato appieno nel processo di Aeronext è visibile come dati fondamentali. Per esempio andiamo a decidere di andare a cercare aziende solo americane, qui possiamo scegliere per esempio il tipo di prezzo, se vogliamo aziende che hanno un prezzo di almeno 5 dollari in su e così via. Io sinceramente per le mie analisi non guardo queste cose. Potete andare però a cercare delle aziende come Marco Martez Cup che siano magari piccole perché voglio cercare delle nuove aziende promettenti che nessuno ha mai notato per esempio. Possiamo anche andare a guardare aziende in base allo flottante per cui se ci interessano aziende che abbiano tante azioni flottanti proprio perché vogliamo avere tanta liquidità andiamo a scegliere da questo punto di vista. Io qui non seleziono mai. Indice, possiamo scegliere anche un singolo indice, io lascerei tutte. Settori indusse e così via. Quello che poi vado a selezionare, posso andare a selezionare sono le performance per cui le performance i termini giornalieri, termini di una settimana, due settimane, un mese. Magari per andare a capire se l'azienda va a crescere nel tempo costantemente oppure no. Poi abbiamo anche il Liberty Relative Strength, in questo caso è un di Chartmill. Le relazioni storiche delle ultime 52 settimane, quanto rispetto al prezzo massimo o minimo in termini percentuali si è discossa. Ad esempio magari qui possiamo chiedere a Chartmill di darci tutto quello che nelle ultime 52 settimane è stato più basso nel 90% rispetto al suo massimo. E possiamo anche andare a scegliere aziende, ad esempio con un beta particolare. Ci vogliamo delle aziende poco volatili o molto volatili, andiamo a decidere noi. Poi andiamo qui, sempre per analisi tecnica, sui vari indicatori. Possiamo vedere che qui Chartmill ha dei suoi rating che includono tutti questi altri indicatori, ma se uno vuole andare a fare un tuning particolare delle proprie scelte, può andare per esempio a cercare in base all'RSI oppure in base al MACD e tutto questo va a comparire qui di fianco. Adesso andiamo a vedere i fondamentali perché è quello che interessa più a me, però una volta che avete scegliato lo screener e volete che siano solo quegli parametri, cliccando su salva vi salverà la configurazione corrente e voi darete un nome, ad esempio analisi fondamentale e ogni volta che andrete a fare uno screening potete semplicemente andare qui dal menu a tendina e andare a prendere solo questo screener vostro senza andare a selezionare di volta in volta tutti i parametri. Dall'altro screener qui possiamo andare a cercare i supporti e le resistenze su base percentuale o anche in base a quello che sono i parametri che Chartmill da. Vedete che in questo momento noi abbiamo 3079 aziende, ovviamente dobbiamo ridurle a un numero che possa esserci utile per andare a parametrare i nostri investimenti. Possiamo andare poi in analisi fondamentale e possiamo andare a scegliere una certa tipologia di screener che magari sono di nostro interesse, magari chi è un value investor andrà a cercare dei parametri, chi è un growth investor andrà a cercarne dei altri, chi è uno che investe come me in dividendi andrà a guardarne negli altri. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Chartmill Rating. Questi vanno a prendere tutti questi voci, un po' come l'analisi tecnica, e vanno ad andare a un rating particolare che fa una media di questi che sono già presenti. Poi voi volete avere la vostra chart personalizzata, si può andare anche a cercare aziende in base a tutti questi parametri. Quello che io faccio di solito per andare a cercare delle aziende, non vado mai a cercare dei parametri troppo restrittivi perché magari alcune aziende hanno delle situazioni particolari e possono magari non avere una condizione particolare in quel periodo perché stanno investendo o per altri motivi particolari e vi perdete magari degli affari. Di solito il valore maggiore è 10, il minore è 0, io solito vado a settare Chartmill Rating intorno ai 5 per quanto riguarda i fondamentali, 6 per quanto riguarda la salute, 6 almeno per quanto riguarda la crescita e almeno 6 per quanto riguarda la valutazione. Inoltre investendo in dividendi voglio anche che il dividendo sia di qualità e costante, in questo caso seleziono 7. Come si può vedere facendo questa tipologia di screening già sono arrivato a semplicemente 7 aziende. Potrei anche andare a vedere la profittabilità però se magari uno investe in REITs questo sappiamo che non è proprio il caso. Comunque abbiamo fatto 6 aziende, possiamo anche decidere di settare un altro screener che magari ci vada a dire il dividend yield però in questo caso non mi interessa, voglio prima cercare di capire l'azienda com'è e poi successivamente possiamo andare a capire se ne vale la pena investire. Comunque qui abbiamo ottenuto 6 aziende e possiamo andare a guardarcele di volta in volta magari aggiungendole a una watchlist che in questo caso non esiste perché queste sono aziende che voglio mettere in watchlist e vado semplicemente a scrivere il nome watchlist da dividendo e in questo modo ho creato questa watchlist e posso andare ad aggiungere appunto tutte queste aziende nella watchlist da dividendo da guardare magari più tardi. Poi per esempio potrei creare delle successive in cui vado a dire watchlist di aziende analizzate. Su questa colonna il chart 1000 fondamenta l'analisi, più stelle si hanno, più vanno verso il verde, più l'azienda dovrebbe essere interessante. Questo come vi dicevo è questo particolare indicatore che va a prendere la media di tutti gli altri indicatori qui sotto. Adesso abbiamo fatto il nostro screener e possiamo andare anche a guardare le aziende dall'interno. Come facciamo? Già passandoci sopra noi vediamo diciamo una parte di analisi tecnica su un grafico giornaliero con i vari supporti, resistenze e tutto quello che abbiamo setto prima nei nostri chart. Abbiamo il nome, come dicevo prima, il rating dell'analisi fondamentale, il dividend yield, il PE, il Ford PE, il PEG, l'EPS a un anno, l'EPS per gli prossimi anni, il ROA, il ritorno in asset, il ROE, il ritorno in equity, l'Altman's score e poi anche il rating degli analisti. Cliccando qui possiamo andare ad aprire il profilo dell'azienda. In un'altra pagina ci viene aperto il profilo e qui ci si apre un mondo intero. Qui abbiamo il technical rating e il setup rating. Questi sono le rating che interessano a chi fa analisi tecnica. Sinceramente io non ne faccio e non mi interessa. Ci viene detto in che settore sta, in che tipologia di industria sta, tutte quelle che sono le valutazioni di quei parametri che abbiamo visto prima, un overview veloce dell'azienda, un suo profilo in cui ci viene detto cosa fa questa azienda. Qui abbiamo, come dicevo prima, il grafico giornaliero. Qui abbiamo alcune notizie che possono essere di interesse. Poi dalla parte dell'azienda, oltre al logo e tutto quello che è stato il movimento, possiamo andare a vedere l'aftermarket e quello che ha avuto nell'ultima giornata di contrattazione. Stock chart, in cui andiamo a vedere più nel dettaglio quello che è il movimento dell'azienda. L'analisi tecnica, per cui tutto quello che abbiamo visto prima come rating viene portato qui con appunto le varie parametrizzazioni, che a me ovviamente facendo investimenti a lungo termine non interessano. In analisi fondamentale ci viene detto tutto quello che è buono e cattivo. Qui viene dato un grafico a stella, un po' come viene dato con Simpile Wall Street. Ma ci vengono dette, a differenza di Simpile Wall Street, non solo i dati, ma anche il perché. Ad esempio qui vediamo che questa azienda ha un ROE del 9,83%, che è migliore dell'industria, che ha una media del 6,03%. Il Piotrowski F-score, che sarebbe la profettibilità dell'azienda, è 8%. Il ROE è un 18,41%, che è comparabile con quello che è l'industria media di riferimento. E come profit margin, l'azienda ha un 35,23%, che è meglio della media dell'industria di riferimento, che è un 18,42%. Poi abbiamo tutta la nostra valutazione basata sul PR ratio, sul forward PR ratio, sul PEG ratio e tutti i vari indicatori di analisi fondamentale. Poi andiamo nella growth, nella crescita, e qui abbiamo tutti i parametri che ci viene detto dell'azienda. Per esempio, qui abbiamo capito che nell'ultimo anno i yearning pre-share sono cresciuti del 4.225%, che, come dicono loro, è quite impressive. Basate sugli estime, nei prossimi 5 anni l'azienda dovrebbe avere gli EPS in crescita del 60-55%. Come il fatturato è cresciuto del 45% quasi nello scorso anno, e sta crescendo con una media del 26% nei 5 anni precedenti. Si prevede una crescita del fatturato del 10% su base anno, nei prossimi 5 anni. Questo ci indica anche, appunto, che l'azienda può andare a crescere in futuro. Tutti questi piccoli parametri, grazie a certi mille, riusciamo a capire, effettivamente, se un'azienda può essere analizzata più in profondità. Quando qualcosa è rosso, vuol dire che è un campanello di allarme. Per cui qua ci viene detto, per esempio, che questa azienda, che pur crescendo, comunque il tasso di crescita del fatturato, sta diminuendo rispetto al passato, ma ovviamente crescendo al 10% anno è una cosa che ci può interessare. Qui ci viene data una piccola schermata su quello che sono la crescita degli EPS e del fatturato, e se anche di quello che è il futuro. Poi abbiamo anche qui, di fianco a ogni rating, tutto quello che è, anche dal punto di vista grafico, quello che stiamo trovando nei box. Anche dal punto di vista della salute finanziaria ci vengono dati qui tutti i parametri, il quick ratio, l'altman score, il petroski score, e così via. E qui dal punto di vista del dividendo. L'azienda paga un 41.06% di dividendo, e solo il 43% degli EPS, per cui neanche la metà viene spesa per pagare il dividendo. L'azienda ha pagato il dividendo dagli ultimi 10 anni, per cui ha un dividendo che è sostenibile, e anche ha uno storico particolare, e così via. Però non finisce qui, perché oltre ad avere tutti questi dati qui riportati in sotto, in questa schermatina riassuntiva, possiamo andare anche a vedere i rating degli analisti, l'81% ha il consenso di buying, le stime, ma anche tutto quello che è stato riportato appunto rispetto a quello che gli analisti si aspettavano, e la differenza, e la quantità in termini percentuali di sorpresa rispetto alle aspettative. La cosa più interessante qui, quando andiamo in financial, vi ricordate che si parla sempre che molti screener, o anche molti siti, ti danno solo 5 anni di storico per quanto riguarda i dati finanziari, beh, loro ve ne danno 10, gratis. Per cui, dal 2021, noi possiamo andare a vedere tutto quello che l'azienda ha fatto fino al 2012, il che è veramente interessante, perché non conosco nessuno che gratis ti dia 10 anni di storico. Lo dà Ticker, ma è a pagamento. Inoltre possiamo aggiungere qui la percentuale di differenza rispetto al passato, quindi possiamo anche capire di quanto è cresciuto rispetto al passato, per esempio, il fatturato, il cost of goods, i costi operativi. Possiamo andare anche a vedere il balance sheet, e anche qui possiamo vedere la percentuale, la quantità di cash che hanno nelle loro casse, tutto quello che sono le fatture che devono essere ancora pagate, tutti i current asset, e tutti i total no current asset. Per cui il balance sheet con le varie percentuali. Qui abbiamo tutti quelli che sono i debiti, le abilities in generale, e il cash flow, quindi andiamo a vedere il net income, tutto quello che sono gli ammortamenti, gli interessi che vengono pagati. E la cosa bella, come dicevo prima, è che lo abbiamo per 10 anni, per cui possiamo andare a vedere come l'azienda è andata ad evolvere. Poi abbiamo anche la ownership, e qui possiamo andare a vedere quali sono il flottante, quanto del percentuale della proprietà è degli istituzionali, e quanto degli insider, chi sono i maggiori istituzionali che investono nell'azienda, in questo caso abbiamo Goldman Sachs, Pocketed Growth Funded, FMR, e così via. E anche gli inside owners, chi sono. Se ritorniamo sul financial, possiamo andare anche a vedere, diciamo, su un grafico, tutto quello che sono il movimento di earning per share dagli ultimi 10 anni, così come il fatturato, l'operation income, il net income e l'ebitda. Dati molto interessanti. Tra l'altro qui vediamo, come dicevamo prima, che l'operating profit margin, il gross profit margin, sono sempre stati positivi nel termine del 50% anno, praticamente quasi sempre, anzi all'inizio, nel 2012, qui avevamo anche un 68%, per cui un'azienda che ha un margine lordo, molto interessante. E questo è solo lo stock screener, e quello che è l'analisi di una singola azienda. Poi abbiamo l'analyzer. Qua ci vengono riportate delle aziende che, secondo l'intelligenza artificiale di Chart1000, e in base ad alcuni parametri che vengono dati in automatico, possono essere degli ottimi ingressi, sia per un backup, per una crescita futura, per un ingresso value, per un ingresso da aziende da dividendo, e così via. Poi qui c'è un custom search che si può creare appunto per andare a creare uno screener particolare di analisi di determinate aziende che sono in base alla tua strategia di investimento. Infine, abbiamo l'insight trading, per cui tutto quello che sono stati le maggiori transazioni e le ultime transazioni sul mercato di inside trading, se volete sapere se nella vostra azienda c'è stata una grossa transazione, la trovate qui. Qui trovate il ticker, in che data è stata fatta, chi è, quando è stata fatta, il numero di azioni, il prezzo, e di quanto è stata la montata della transazione. Interessantissimo. Ah, ho dimenticato i settori. Qui in base ai settori ci viene detto US, Canada e UE, in base alle tipologie di diversificazione del settore. Queste sono solo due sigle che hanno diversi tipologi di settore, il GX e il Nikes. Semplicemente cambia il numero di settori disponibili. Come si può vedere, cambia poco diciamo. E qui abbiamo i settori, che abbiamo qui, i gruppi, per cui è ancora una diversificazione più importante, e poi le industrie, che va ancora più a andare nel dettaglio. Tra l'altro, questo screen si può utilizzare sugli Stati Uniti, su Canada e su Europa, ma è di analisi tecnica o di analisi fondamentale. Per cui uno può fare, può andare a capire se dal punto di vista fondamentale il settore, per esempio l'industria Energy e Keeping the Services sta crescendo, e anche se dal punto di vista dell'analisi tecnica, effettivamente vale la pena fare un ingresso adesso o aspettare. Qui abbiamo anche Upgrades e Downgrades, per cui tutto quello che gli analisti hanno dato come riferimenti su alcune aziende, se per esempio è stato detto di mantenere la stessa analisi, se l'analisi diventa un Sell, un Buy, un Outperform, un Overweight, in modo da capire anche cosa pensano gli analisti su una determinata azienda. E questi sono solo i tool. Poi possiamo andare anche in Stock Market. Qui abbiamo i Top Gainers e Losers dell'ultima giornata di contrattazione, dell'ultime 52 settimane, quelli che hanno avuto un Gap Up e Down maggiore, quelli che sono stati più attivi in termini di volume di transazioni, e che erano stati più grandi come termini di transazioni in pre-market, in after-market, e in più abbiamo anche qui il calendario degli earnings su base giornaliera. Qui abbiamo la full list e poi ovviamente qui oggi è domenica quando sto registrando non c'è niente, domani ci sono queste earnings, ma ovviamente andando in full list, ovviamente qui vediamo solo gli earnings di domani, tomorrow, però se andiamo su Fundamental possiamo andare a selezionare qui da earnings a dividend date a quali earnings siamo interessati e in che arco temporale. Secondo me è una cosa stupenda, mi piace tantissimo. Poi abbiamo ancora più in basso le trading ideas. Qui ci vengono dati in base a dei momentum, ai breakout, ai bull flag, ai strong grow setup, delle idee di investimento che vengono fatte in base all'intelligenza artificiale, per cui qui come sempre viene ribadito che questi contengono delle trading ideas che sono state fatte in base alla configurazione di screener, per cui queste sono state condivise sulla piattaforma, ma ovviamente sono semplicemente delle idee e non dei consigli finanziari. Poi abbiamo la sessione news dove vengono riportate tutte le notizie di interesse appena vengono pubblicate. Un'ora fa, 42 minuti fa, 35 minuti fa, abbiamo le news di per sé e le press release. Poi se andiamo qui su documentazioni abbiamo tutta una serie di articoli che possono essere di nostro interesse, per esempio per andare a capire quali sono i tipologi di indicatori, cos'è l'RSI, cos'è il cumulative data, supporti e resistenze, cosa sono. Semplicemente andando a digitare qui un nome di un articolo si può andare anche a capire tramite questi articoli di cosa si parla. Per esempio clicchiamo ne uno magari con un tasto destro e qui ci dice cos'è l'RSI, la formula, su cosa si basa, su cosa viene usato e quali sono tutte quelle che sono le analisi che stanno a monte di questo indicatore e poi viene spiegato in un articolo lunghissimo appunto come si usa questo indicatore. Questo è interessantissimo perché chi vuole imparare può farlo su questa piattaforma semplicemente andandoci a leggere gli articoli gratuiti che sono presenti sulla piattaforma. Per esempio cos'è l'analisi fondamentale cliccando qui andiamo a leggere cos'è l'analisi fondamentale, cos'è il balance sheet, cos'è l'income statement e così via. Secondo me è una cosa molto interessante. Poi c'è il blog in cui appunto vengono pubblicati nuovi articoli di volta in volta, gli indicatori per cui tutti gli indicatori qui che sono presenti sulla piattaforma vengono spiegati semplicemente cliccando sul profilo indicatore e andando sull'indicatore di cui ha interesse capire il funzionamento semplicemente qui va a leggersi tutto quello che è l'indicatore per esempio cos'è il MACD il moving average convergence and divergence e viene spiegato in dettaglio sia con la documentazione interna e c'è anche il link su Invistopedia proprietà tutte quelle che sono le proprietà che si possono vedere in una security quando si va ad aprire qualcosa di Chartmill così il Gix l'abbiamo visto prima il Nikes poi abbiamo lo Screen Market Data per cui qui andiamo a capire quali dati sono disponibili sulla piattaforma per i vari mercati negli Stati Uniti abbiamo tutti i dati che sono ritardati di 15 minuti per il Canada non abbiamo semplicemente gli Insider e Institutional Trades e come dicevo prima qui alcuni dati fondamentali non sono presenti per alcuni per alcuni exchange perché loro ricevono informazioni da CBOE Europe che copre i principali strumenti di tutta Europa incluse queste borse valori ma non di tutti poi ci sono gli articoli popolari sulla piattaforma e quelli che abbiamo visto prima possiamo vederli tutti poi vi parlavo dell'account perché vi dicevo che l'account è gratuito ma non sempre il piano è gratuito come dicevo prima e vengono dati 6.000 crediti al mese in base all'utilizzo che ne fate ogni cosa che utilizzate ad esempio ogni azienda che guardate ogni grafico che guardate ogni analisi fondamentali che fate vi vengono scalati dei crediti 6.000 crediti al mese io non li ho mai consumati comunque dovendo utilizzare adesso di più la piattaforma proprio perché la utilizzerò più spesso anche per fare le analisi delle mie aziende diciamo che ho la subscription annuale per cui ho dei crediti limitati che mi dà accesso a tutto in maniera illimitata si può decidere di fare un pagamento mensile o un pagamento annuale oppure se uno dice io gli 6.000 crediti non li supero mai però nel caso li superassi semplicemente mi compro dei crediti con 9 euro ci si compra 10.000 crediti e per cui si può andare a implementare alcune analisi successive senza doversi fare un abbonamento annuale vi ricordo che il link affiliato qui sotto in descrizione se vi iscrivete è gratis per voi è gratis anche per me perché nel senso che se non pagate nessuna subscription non dicevo niente però se successivamente pagate qualcosa aiutate semplicemente il canale a crescere bene questo era tutto quello che dovevo potevo dirvi sulla piattaforma spero di essere stato chiaro non sono voluto andare troppo nel dettaglio su alcune cose anche perché volevo semplicemente far capire cosa si può fare con la piattaforma quali dati si possono ottenere e poi ovviamente se una persona è interessata a sottoscrivere in maniera anche il piano gratuito può andare a studiare quello che interessa di più a lui per esempio io utilizzerei poco la parte di screening relativa all'analisi tecnica però quella che è relativa all'analisi fondamentale la utilizzo tantissimo per la preparazione dei dati dei miei video adesso diciamo abbiamo finito sulla piattaforma e ritorniamo per le ultime considerazioni bene spero che questo tutorial sia stato il tuo gradimento Chartmill io personalmente lo adoro e lo sto usando molto più spesso di prima e lo continuerò a usare sempre di più anche per la preparazione dei miei video come detto non copre tutto ma copre una buona fetta di mercato come detto non è completamente gratuito ma se utilizzate la parte gratuita è praticamente gratis per voi se avete invece un utilizzo da trader che ha bisogno di tante informazioni in breve tempo e comunque utilizza tantissimo la piattaforma vi vengono offerte delle soluzioni di abbonamento oppure come dicono gli inglesi pay as you go cioè comprando credit di volta in volta bene se tutto questo ti è piaciuto lascia per fare un bel pollice in su sia per l'algoritmo di youtube perché per te è gratis ma anche per me perché mi aiuta a far crescere il canale qui su youtube se poi sei nuovo ti chiedo ovviamente di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo che ando a pubblicare nei prossimi giorni anche per oggi è tutto noi domani ci vediamo come ogni mercoledì con Ritz alle orecchie e poi tutto il resto della settimana con altri video domani tra l'altro andiamo a parlare dei Ritz spagnoli per cui non perdetevela anche per oggi è tutto ciao ciao Grazie per la visione!